Musica Io confesso che sono un po' turbato perché la realtà vince il sogno. Mi ero preparato il compitino per dire le cose che cercherò di dire brevemente. Ugualmente, ma la visione della realtà appunto al piano sottostante mi sembra superare ogni confine. Sono esposti una serie di progetti che letteralmente non si capisce da quale senno possano nascere, come possono prendere forma, quale sia la cultura che li produce. Una volta si accusavano geometri, no? Creatori di un'architettura geometrile, si diceva a lui. Qui siamo al di là di questa, sinceramente, l'inserto della catedrale di Mirandola è oggettivamente orripilante. Non c'è altra possibilità o ragione e questo bisogna dirlo in maniera molto esplicita e mi auguro che dall'Italia nostra e dall'incontro di Mirandola stessa la realtà possa uscire molto esplicita. C'è una cosa che da storico dell'arte non può essere mai dimenticata ed è che la città italiana, dal città di calibro al più piccolo insediamento, è di gran lunga la creazione più alta della civiltà artistica italiana. Questo è un punto che da storico dell'arte deve essere superato, affermato, superando anche gli schemi di categoria che dividono i generi facendo della pittura la più celebrata tra le possibilità espressive. No, la città italiana è la perfezione di venti. Non ha perfino l'ultimo paese della Calabria, non parliamo di Mirandola o di Crevalcore, sono luoghi di straordinaria identità che sono stati molto ben definiti negli anni passati, da perfino abusato discorso sul non luogo di Marco Ege e sulla perdita, in caso di distruzione o di variazione, la perdita di identità e di identità culturale che questi luoghi genererebbero non per se stessi, ma per la cultura intera. Non parliamo delle situazioni regionali cui è stato fatto cenno. Chiaro che l'Istituto per i beni culturali, per quel che credo, e Marina l'ha detto bene, era nato proprio per questo, era nato per fornire alla giunta regionale una consulenza di reciprocità operante, in modo che la politica, e questo lo voleva, lo aveva voluto Guido Fanti, fosse cosciente di ciò che operava, alla luce di una verifica di natura intellettuale, storica, degna di questo nome. L'Istituto non ha altra verità, non è un collegio per nobile donne o un'opera PIA, è evidentemente un luogo nato per, appunto, come dice la legge, per la gestione, per la consulenza della giunta regionale nell'ambito delle sue decisioni centrali. Detto questo, davvero non si capisce quale sia allora la formazione di questa imponente agenzia cooperativa che unisce, troppo chiaramente, gli interessi non solo dei costruttori o dei progettisti, ma di un residuo cooperativismo, rosso o bianco, non importa, che si fa carico degli affari futuri, degli interessi bancari che sono dominanti, di un capitale erratico della crisi non trova altra possibilità che la distruzione o la sovrapposizione. Qui ce n'è per tutti, non è possibile immaginare che il capitale che si muove possa essere così, sbandato e incapace di decisioni, se non quelle della... Qui e poi il problema è peggio, io mi ero preparato a parlare di distruzioni, cioè di creazioni di tipo aquilano di un non luogo, che resta comunque un'ipotesi terrificante. Ma qui si ritorna ancora più indietro, cioè all'inserimento negli edifici esistenti di altre formazioni e di altri edifici inseriti come, non so, come buboni, come cose malefiche, non c'è bisogno di dire troppo. E la situazione è peggio di quello che poteva essere immaginato. In questa situazione è chiaro che torna fuori dal passato che proprio l'Istituto ha discusso al suo tempo un concetto antico che è quello della deviazione tra conservazione, cioè manutenzione, e sostituzione. Si sta lavorando ormai trionfermente al concetto di sostituzione. I vecchi termini dell'estauro come manutenzione sono stati allontanati, come inefficaci. Il dopoguerra in fondo aveva tentato un'operazione di questo genere e a certe persone, come lo stesso Alfredo Balbacci per Bologna, bisogna riconoscere che una certa resistenza sulla conservazione, un po' non completamente riuscita, bisogna riconoscerela. Ma adesso la sostituzione ha vinto completamente. Il caso Aquilano è la vale per tutti, ma sembra che nessuno se ne renda conto. Anzi, ripeto, è meglio adulterare l'esistente sciupandolo completamente e poi il resto non lo conosciamo, il resto probabilmente è la costituzione degli infiniti non luoghi che come i 19 dell'Aquila andranno ad abitare le vicinanze, rendendo impossibili le relazioni identitarie, la cultura del gruppo, perfino la presenza del bar o dell'osteria, che resta pur sempre dopo le dimissioni della parrocchia, dalle sue capacità di riunione, perché tale, mi sembra che credo sia fortemente orientato alla sostituzione rispetto alle vecchie chiese, restano i nuclei del vivere, i nuclei dell'essere in relazione, appunto, quelli che danno luogo al non luogo. Si può continuare lungo, ma vi chiedo scusa, credo che sia bene che lo salvio parli, perché è più bravo di me.